Ciao ragazzi questo che vedete è il OnePlus 7 Pro nella versione da 256GB lo sto utilizzando da diverso tempo e per questo voglio portarvi diversi trucchi e consigli per utilizzarlo al meglio alcuni di questi trucchi e consigli sicuramente funzioneranno anche sugli altri OnePlus della serie 7 quindi vi invito comunque a guardare il video l'ho acquistato ad un prezzo di 480€ praticamente nuovo e questo prezzo a fare grazie alla nostra segnalazione sul canale di sconti e offerte Telegram perché ve l'abbiamo promosso quando c'era il meno 20% Warehouse Dias e vi assicuro che questo dispositivo è nuovissimo, è stato sicuramente reso per seguire il nostro canale Telegram potete cercare Guido Informatica 1 o in descrizione vi lascio comunque il link ma bando alle ciance proseguiamo e andiamo a vedere come utilizzare al meglio questo OnePlus guardate andando a premere questa combinazione di tasti volume giù e volume su cosa succede? riesco a invertire i colori dello schermo e questo è possibile farlo grazie a una funzione del OnePlus possiamo anche personalizzare tasto volume su e tasto volume giù con altre funzioni vi basterà andare in impostazioni, sistema, accessibilità, scocciatoia per i tasti del volume utilizzate il servizio e dopo di che in servizio scorciatoia scegliete cosa far funzionare all'attivazione di questi due tasti andiamo a vedere ora come è possibile registrare lo schermo del vostro telefono senza installare applicazioni di terze parti aprite i vostri toggle e sul tasto modifica quindi sulla matita che vi appare vicino ai toggle andare a vedere quelli che sono i toggle in più che vi possono servire e trascinatevi nella schermata principale come vedete c'è il registratore schermo che mi basta tener premuto per portare nella sezione principale la sezione registra schermo ovviamente è un pulsante fluttuante che può essere spostato o chiuso semplicemente con il tasto X ma è possibile anche impostare la qualità, la densità e la risoluzione vedete questo qui è davvero molto comodo perché mi permette di registrare e di fare tante cose ad esempio io per i social guida informatica lo utilizzo tantissimo e vi consiglio quindi di attivarlo perché è di sicuro una funzione davvero utile per quanto il Oneplus sia potente e davvero molto performante e soprattutto fluido grazie comunque allo schermo da 90Hz c'è un'applicazione chiamata Game Mode o Fnatic Mode che permette di aggiungere i giochi all'interno di questa modalità questa modalità vi permette di non solo nascondere le notifiche ma di dare priorità al processo del gioco e soprattutto di potenziare al massimo la CPU, la GPU e la RAM per il gaming vi dico che è conveniente comunque utilizzarla anche se il Oneplus va già una bomba senza questa modalità il Oneplus 7 Pro non mi ha convinto molto per quanto riguarda l'autonomia e vi do alcuni consigli per andare a migliorare quella che è la durata della batteria e nelle impostazioni in sezione display vi consiglio di abbassare la risoluzione da Quad HD a Full HD Plus è importante se volete abbassare la frequenza di aggiornamento da 90 a 60Hz ed è questa la cosa che più influisce sull'autonomia del dispositivo è vero che è triste non utilizzare la modalità 90Hz sempre ma vi consiglio di disattivarla quando non giocate perché vi garantisco che vi migliorerà l'autonomia di questo dispositivo inoltre nella sezione batteria sempre da impostazioni nella modalità quindi di risparmio energetico si può impostare una pianificazione cioè attivarlo in base a una percentuale ed inoltre sempre in batteria da ottimizzazione batteria non solo potete andare a controllare ogni app in maniera intelligente quindi ottimizzare o non ottimizzare l'ibernazione dell'applicazione ma in ottimizzazione avanzata bisogna spuntare su batteria adattiva e ottimizzazione stand-by perché permettono di migliorare la durata della batteria disattivando la connessione di rete quando si dorme o quando comunque non si utilizza il dispositivo piuttosto che utilizzare i semplici tre bottoni per la navigazione possiamo impostare la navigazione tramite gesture che permette di avere una rapidità dell'utilizzo del telefono sicuramente maggiore vi assicuro che una volta che avete preso la mano è davvero molto simpatica la funzione delle gesture perché vi permette di passare da un'app all'altra molto velocemente e comunque anche di vedere in anteprima quale app si sta passando andando a effettuare uno swipe in basso leggermente più delicato vi basterà comunque prenderci un po' la mano per utilizzare la modalità gesture e vi assicuro che dopo un po' di tempo vi permetterà di velocizzare le vostre operazioni anche perché il dispositivo OnePlus riesce a tenere il passo grazie alle ottime prestazioni avete un doppio account Facebook, Whatsapp o qualsiasi altro account senza scaricare nessuna applicazione andate in impostazioni utilità su app parallele e potete cliccare con lo switch per clonare le diverse applicazioni inoltre nella stessa sezione c'è l'app locker che vi permette di bloccare le app tramite un pin eventualmente da persone indesiderate anche se riescono a sbloccare il vostro telefono soprattutto è consigliato per app bancarie o anche la galleria dove avete comunque dei file personali c'è anche la sezione OnePlus Switch che vi permette di fare un backup veloce e istantaneo da un precedente OnePlus al OnePlus attuale è possibile modificare l'animazione dell'impronta che come sapete è sotto lo schermo in impostazioni sicurezza e schermata di blocco e entrare nella sezione impronta digitale vi basterà andare poi su effetti di animazione impronta per selezionare tra quattro differenti tipologie di sicuro preferisco di gran lunga comunque lo sblocco facciale e nella sezione di sblocco facciale ci sono due impostazioni che dovete assolutamente attivare di default è impostato che anche dopo il riconoscimento del volto dobbiamo scorrere in alto per sbloccare ma di gran lungo preferisco lo sblocco automatico quando lo schermo si accende in modo da velocizzare comunque l'utilizzo del telefono vi assicuro che fa la differenza e per questo vi consiglio di attivarlo questo vi sembra banale ma voglio comunque ricordarvelo attivate l'opzione sviluppatore andando a cliccare in impostazioni informazioni sul telefono numero build finché non uscirà l'impostazione di opzioni sviluppatore e vi consiglio di attivarla non solo per avere tante funzioni in più ma soprattutto per scalare le animazioni a 0,5 secondi piuttosto che un secondo vi assicuro che questo vi permetterà di avere comunque un telefono più fluido e più veloce grazie alle animazioni che hanno il doppio della velocità Oneplus ha creato facendo swipe verso destra una pagina simile ai prodotti IOS e piuttosto che utilizzare i widget nella pagina dove ci sono le applicazioni vi consiglio di inserirle qui andando a cliccare in alto a destra sulla funzione impostazioni widget widget che comunque saranno disponibili anche andando a installare diverse applicazioni tra cui Meteo, Aliexpress, Aptoid e tanto altro quindi vi consiglio di aggiungerle qui piuttosto che aggiungerle nella home dove ci sono le applicazioni voglio inoltre ricordarvi che Oneplus permette di dividere lo schermo semplicemente aprendo i task delle applicazioni e andando in alto a destra a cliccare sui tre pallini delle impostazioni per poi cliccare su schermo condiviso vi mostrerò lo schermo diviso del nostro secondo canale telegram di offerte in generale il mister con l'applicazione youtube e questa cosa la trovo ottima soprattutto per non stoppare in background i video di youtube e ascoltare anche la musica vi ricordo di utilizzarla perché è davvero molto utile e tra l'altro possiamo anche regolare la grandezza di una e dell'altra quasi dimenticavo la modalità scura che potete attivare da impostazioni e personalizzazioni che vi permette non solo di risparmiare autonomia ma di avere un look più figo e soprattutto una leggibilità migliore visto che si andranno a scurrire anche applicazioni quali instagram youtube e tutte quelle compatibili nella stessa sezione poi è possibile modificare le varie colorazioni le icone, i toggle e tanto altro andate a dare un'occhiata un'altra funzione interessante da display è la modalità notte che vi permette di rendere lo schermo più giallino e di affaticare meno gli occhi potete attivarlo sia da subito e gestire la temperatura colore e intensità o di programmarlo a un determinato orario per ora questo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se conoscete qualche altro trucco scrivetelo qui sotto nei commenti vi ricordo che potete seguire i nostri meme e i nostri video sulla tecnologia su instagram guida informatica e infine vi ricordo anche di seguirci sui due canali telegram che vi lascio in descrizione dove pubblichiamo tante promo e tante offerte sia di tecnologia e non solo un saluto a tutti e alla prossima